Siamo nel contesto della cena pasquale ed è il momento in cui Israele fa memoria di un cammino di liberazione, dalla schiavitù alla libertà, momento in cui si contempla anche realizzarsi di una promessa, dal deserto a una terra fertile, dalla morte alla vita e nello stesso momento dove si apre anche a una nuova realtà di popolo, da una storia frammentata a una storia di comunità. Ed è proprio in questo contesto che Gesù porta a compimento la sua missione nella prospettiva della Pasqua e dice delle parole che quotidianamente ci appartengono ma che soprattutto la domenica la nostra comunità celebra, prendete, questo è il mio corpo. La parola iniziale è una parola molto forte, è un ordine, un comando, prendete, cioè è una storia quella dell'amore di Dio liberante, il cammino della vita umana che noi dobbiamo sempre accogliere, da collocare nella nostra responsabilità, nella nostra libertà, prendete. Si tratta cioè anche di tendere le nostre mani per accogliere il dono di Dio e quindi è un impegno sempre da vivere, collocato non in una logica quasi magica, ma dentro il cammino della libertà e della responsabilità dell'uomo. Nello stesso momento Gesù dice mangiate, bevete, è un appello cioè ad assimilare la sua vita, a fare totalmente nostro quel corpo e quel sangue, quel corpo, quella storia dentro la quale Dio ha impregnato totalmente se stesso, quel sangue, quello spazio di vita e di alleanza nella quale Dio si è definitivamente legato alla nostra umanità. E quindi quel mangiate, bevete è un appello ad assimilare in noi l'esperienza di quell'amore e di quella fedeltà di Dio che nell'Eucaristia si esprime nella maniera più alta e compiuta. E quel prendere il corpo, dunque prendere il sangue rimanda a uno stile di vita, a un modo di stare nel mondo, a una storia, dicevo, di amore, di fedeltà, di libertà dentro la quale la vita si realizza come vita nella relazione con Dio. E poi mi piace anche richiamare la domanda dei discepoli e la risposta di Gesù. I discepoli quando dicono dove vuoi che andiamo a preparare la Pasqua? Cioè dov'è il luogo in cui tutto questo siamo chiamati a realizzare, l'ambito dell'Eucaristia? E Gesù dice andate in città. Sappiamo come la città è il luogo della vita, è lo spazio della complessità delle trame dell'esistenza, cioè è nel luogo ordinario dell'esistenza che l'Eucaristia chiede di essere esplicitata attraverso una testimonianza e un racconto di vita.